vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org il simbolo niceno costantinopolitano professa dogmaticamente ed infallibilmente credo unam sanctam cattolicam ed apostolicam ecclesiam il santo uffizio sotto il beato pio nono dichiara al riguardo nell'anno 1864 la vera chiesa di cristo è determinata e definita nella sua essenza sulla divina autorità mediante il segno quadruplo che professiamo nel credo come oggetto della fede questo segno quadruplo viene definito in termini di quattro note ossia caratteri visibili della chiesa cioè unità santità cattolicità ed apostolicità un'analisi delle note soprattutto della prima ci mostrerà in seguito che nessun'altra sedicente chiesa può pretendere di essere la vera chiesa di gesù cristo cominciamo esponendo la sua unità 1. l'unità come nota della chiesa il simbolo professa l'unità come prima nota della chiesa credo unam ecclesiam ci chiediamo innanzitutto in quale senso la chiesa è una il concilio vaticano primo dichiara affinché la moltitudine universale dei fedeli rimanesse conservata nell'unità della fede e della comunione il signore apposto san pietro come capo degli altri apostoli ed istituì in lui il principio perpetuo ed il fondamento invisibile della doppia unità vediamo qui che la chiesa è una in due sensi che c'è una doppia unità l'unità della fede e l'unità della comunione l'unità della fede consiste nel fatto che tutti i membri della chiesa aderiscono alle verità della fede proposte a loro dal magistero perenne della chiesa che le credano internamente almeno in modo implicito e le professino esternamente l'unità della comunione invece consiste nell'unità di governo in primo luogo la sottomissione di tutti i membri della chiesa all'autorità dei vescovi e del papa ed in secondo luogo l'unità di culto che assicura il collegamento tra di loro dei membri della chiesa tramite i sacramenti il papa è il principio ed il fondamento di questa doppia unità come sommo docente garantisce l'unità della fede come sommo pastore garantisce l'unità di comunione l'unità della chiesa viene espressa dalle parole del signore stesso lui esige l'unità della fede quando dà il mandato agli apostoli di evangelizzare tutte le nazioni e comanda che tutti gli uomini accettino la fede incondizionatamente alla fine del Vangelo di San Matteo e di San Marco egli esige l'unità della comunione quando prega al padre per l'unità degli apostoli e dei futuri fedeli non prego solo per questi ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me perché tutti siano una sola cosa come tu padre che sei in me ed io in te siano anch'essi in noi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai mandato ribadiamo a questo punto che l'unità di cui si tratta qui fa parte dell'unità di comunione propria alla chiesa cattolica la sottomissione di governo e l'unità di culto non si tratta dell'unità che unisce tutti i cristiani di tutte le confessioni il loro denominatore comune più basso come vedremo più avanti San Paolo rappresenta l'unità della chiesa con le immagini di una casa e di un corpo umano ed accenna la sua doppia unità nelle seguenti parole un solo corpo e un solo spirito un solo signore una sola fede un solo battesimo un solo dio padre di tutti San Paolo aggiunge un aspetto morale all'unità di comunione vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza sopportandovi a vicenda con amore cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace lo stesso apostolo ammonisce contro i due mali che distruggono l'unità della chiesa l'eresia che distrugge l'unità della fede e lo scisma che distrugge l'unità della comunione ammonisce contro l'eresia con la parola dopo una o due ammonizioni sta lontano da chi è fazioso ed ammonisce contro lo scisma con la parola vi esorto pertanto fratelli per il nome del Signore nostro Gesù Cristo ad essere tutti unanimi nel parlare perché non vi siano divisioni tra di voi ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti la prima nota della vera chiesa di Cristo è la sua unità dunque vediamo che questa unità è sia interna che esterna in quanto presta alla chiesa cattolica da un lato la sua integrità e dall'altro lato la distingue da tutte le altre sedicenti chiese si può esprimere l'unità sia interna che esterna dicendo che la chiesa cattolica è allo stesso tempo una ed unica 2. la nota di unità come criterio di cattolicità poiché questa prima nota la nota dell'unità è allo stesso tempo così precisa e larga nell'ambito viene tipicamente applicata anche senza le altre note come unico criterio per determinare la cattolicità di una data comunità o persona in questo contesto si parla piuttosto di unità triplice ossia l'unità di fede e di governo e di culto di cui le due ultime costituiscono insieme come abbiamo già detto l'unità di comunione ora la nota dell'unità la possiede solo la chiesa cattolica non la possiede la chiesa ortodossa e nemmeno la possiede la chiesa protestante né qualsiasi chiesa che si presenta come una delle chiese ortodosse o protestanti né qualsivoglia altra chiesa non la possiede alcun'altra sedicente chiesa in quanto nessuna di loro possiede insieme l'unità della fede e l'unità di comunione che comprende come abbiamo già spiegato l'unità di governo cioè la sottomissione al papa ed ai viscovi e l'unità di culto cioè i sette sacramenti nessuna di loro possiede il principio e il fondamento di questa doppia unità che è il papato anzi tutte queste chiese sono caratterizzate piuttosto dalla loro divisione in piccoli gruppi innumerevoli le sette protestanti e le chiese autocefale ortodosse di fatti poiché nessun'altra chiesa ha le caratteristiche della vera chiesa è più accurato chiamarle comunità religiose e non chiese affatto chiamarle chiese sostiene la tesi che siano tutte mezzi di salvezza sullo stesso livello della chiesa cattolica questa però è un'eresia condannata dal beato Pio IX nell'enciclica Quanto conficciamo urmorere e nel sillabo nessuna chiesa oltre la chiesa cattolica possiede la nota dell'unità dunque non è vero neanche che ci sia una chiesa più grande della chiesa cattolica che si chiama la chiesa di Cristo che consiste di tutte le confessioni insieme poiché anche a questa chiesa mancherebbe la nota dell'unità non ci sarebbe l'unità di fede né di comunione cioè quanto al governo e al culto né il principio e il fondamento dell'unità che è il Papa questo è l'errore a cui abbiamo già accennato di ispirazione modernista la sola unità che avrebbe questa chiesa sarebbe l'unità del denominatore più basso di tutte le confessioni l'unità dei loro articoli fondamentali secondo la teologia protestante ma questa è inconciliabile con l'unica vera fede vuoi informarti informarti e orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più visite il sito www.radionomalibera.org